ciao a tutti ragazzi sono kazuos e benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi a moxeremo un pacco molto misterioso eccolo qui ragazzi allora come potete vedere ragazzi un prodotto della trust come potete vedere il visore vr il gxt 720 il visore sarebbe praticamente con l'apparecchio che si mette qui per la realtà aumentata diciamo e questo qui si utilizza per i cellulari prima di tutto ragazzi trovate il link in descrizione se volete acquistarlo su amazon e in descrizione trovate anche il link della pagina facebook della trust ci mutiamo di cortello di coltello ragazzi e togliamo lo scotch ma aspettate questa qui è roba da dilettanti va utilizziamo questo ragazzi come corte allora scato ovviamente sempre ben protetto e togliamo lo scotch con questo coltello ragazzi vi ho detto tutto ok ragazzi togliamo il primo scatolo ecco qui allora qui ovviamente abbiamo il libretto delle istruzioni che per ora mettiamo da parte che mai leggeremo dico mai ok ragazzi ecco qui a voi il visore ben protetto ovviamente allora innanzitutto ragazzi abbiamo un piccolo controller per i giochi eccetera e poi finalmente abbiamo il nostro visore per smartphone eccolo qui ragazzi che cacciamo fuori qui abbiamo avvertenze eccetera che per ora sempre messiamo da parte giuro che dopo leggerò tutto ragazzi usb ragazzi serve a caricare il controller bluetooth e in pratica il controller bluetooth noi lo uniamo al cellulare e funziona tramite bluetooth che in pratica ragazzi potete potrete comandare il telefono quando lo utilizzate nel visore e ci sono anche giochi che richiedono di utilizzare questo controller passiamo ora ragazzi al visore che è proprio questo ragazzi è una figata all'interno si presenta così con il visore ragazzi potete vedere video in 3d provare giochi in 3d basta che scrivete sul play store o sull'app store vr virtual reality che significa e lì vi trova tutta la sfida di giochi ad esempio prima io ho provato praticamente un gioco che si stava sulle montagne russe io vedevo tutto con le montagne russe potete utilizzare praticamente ragazzi si apre questa boccuccia qui qui inserite il vostro cellulare ragazzi come potete vedere all'interno c'è il mio cellulare senza cover e poi inseriti il gioco richiudete e vi mettete il visore ovviamente ragazzi si può utilizzare con tutti i cellulari fino a 6 pollici di grandezza ovviamente ragazzi potete vedere video a 360 gradi o 3d su youtube o su qualsiasi altra piattaforma abbiamo ovviamente ragazzi un'imbottitura di gomma confortevole ragazzi che non dà fastidio alla pelle eccetera ma mi trovo davvero benissimo io lo inserisco e mi godo una bella corsa sulle montagne russe ragazzi che ovviamente non posso farvi vedere perché voi non lo vedreste a realtà virtuale volendo ragazzi si potrebbe giocare anche a clash royal con il visore anche se sarebbe difficilissimo spero che questo video unboxing vi sia piaciuto ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche lasciate un like cerchiamo di raggiungere 2000 likes per questo unboxing fatemi sapere nei commenti se lo acquistate o meno ovviamente trovate il link in descrizione per acquistarlo tramite amazon non costa tantissimo e in descrizione trovate anche il link della pagina facebook della trust e niente ragazzi qui da ragazzo non è tutto e noi ci vediamo al prossimo video ciao